Tanto grazie al Consorzio COB di questo invito. Io oggi rappresento IREN. IREN è presente in Toscana, soprattutto sul settore ambiente, oramai da due anni e mezzo ed è subentrata nelle quote della vecchia Unieco, quindi da una società cooperativa che aveva investito nel settore igiene ambientale, soprattutto nel lato Toscana Sud, quindi nelle province di Arezzo e Siena e Grosseto. Oggi gestiamo la raccolta in queste tre province, quindi un milione di abitanti ed è oggi l'occasione un po' di raccontare la nostra esperienza, il nostro confronto con il Consorzio COB che abbiamo trovato come fornitore di servizi di raccolta e abbiamo come gruppo non solo confermato ma anche sviluppato ulteriormente rendendo il rapporto maggiormente strutturato. Quindi oggi ringrazio ancora di questa partecipazione e speriamo che in futuro si possa anche ulteriormente sviluppare e strutturare il rapporto tra le società.